Un cast di talentuosi artisti, un musical originale e coinvolgente che porta sul palcoscenico del teatro Von Westerhout di Mola di Bari l'omonimo film del 2000 Le ragazze del Coyote Agli. Prodotto da tutti in scena, cultura e spettacolo, la performance promette di trasportare il pubblico in un mondo di emozioni e intrattenimento. Violet, una giovane donna proveniente da una piccola città, si trasferisce a New York City con il sogno di diventare una famosa cantautrice. La sua vita prende una svolta inaspettata quando inizia a lavorare come cameriera al Coyote Agli, un locale notturno famoso per le sue bariste che, oltre a servire, ballano e cantano sul bancone, creando un'atmosfera vivace e provocatoria. Nonostante la sua timidezza iniziale, Violet acquisisce fiducia in se stessa e conquista il rispetto delle sue colleghe e dei clienti del bar. Mentre cerca di realizzare i suoi sogni musicali, affronta una serie di sfide personali e professionali che porteranno a scoprire il vero significato del coraggio e della determinazione. Il musical Le ragazze del Coyote Agli è una storia avvincente sull'amicizia, sull'amore e soprattutto sulla ricerca dei propri sogni. La scelta di questo musical è stata mirata proprio per il fatto che è un musical diverso, soprattutto inedito, ma anche perché affronta tante tematiche dove diamo la possibilità allo spettatore di sognare insieme a noi. Le repliche sono sette repliche per il momento, qui al Teatro Van Vestrut di Mola di Bari e andremo in scena fino a domenica 2 giugno.